Eccolo! Ciao Matteo, benvenuto! Grazie, grazie! Allora, Matteo Paulino, accomodati! Abbiamo un filmato? Io direi di mandare il filmato! Cominciamo così! Sono felice che ci stai. Tu sei sempre quello che sta a dare. Non mi occupavo io, c'è questo marfo, c'è questo marfo. E' una seconda possibilità. Ricordati sempre quello che hanno fatto per entrare qua dentro, però. C'è che è uscito troppo buono. Abbiamo occupato una mancina. C'è questo marfo. I nostri fan sono molto calorosi. Questo ci spinge anche a spronarci, a fare di più, a continuare a lavorare, a fare sempre meglio. Penso che l'arte abbia una sola fonte. Poi ci sono vari modi di esprimerla e quindi varie forme. Principalmente il mio modo è sempre stato quello della recitazione. La musica per me è stata un hobby, una passione che ho coltivato parallelamente e che mi ha aiutato molto a alimentare il lato recitativo. Allora, un grandissimo successo. Mare fuori. Anche se tu oggi, adesso mi parli, voglio che tu mi racconti un po' di te. Ma tu qui oggi sei per presentare un libro perché... E tra l'altro è arrivato prima a te che a me. È arrivato... Io ancora non l'ho visto. Devi fare la dedica alla zia, eh, che non c'è. Ecco qua. Dai, racconta questo libro. 2045. Sì, 2045. Guarda che mi è arrivato ieri anche a me. Mi va piacere se poi lo leggi. Certo, sì. E avevo l'esigenza di scrivere qualcosa in maniera più approfondita. Mi sono reso conto che queste tematiche in una canzone diventavano troppo riduttive e quindi avevo bisogno di argomentare un po'. E ci ho messo due anni e mezzo, una cosa del genere. Parecchio. Però, perché in mezzo ho fatto tantissime altre cose. Però ormai avevo cominciato, quindi dovevo terminare. Quando hai cominciato a scriverlo? Sentivo l'esigenza di raccontare un po' il processo di deumanizzazione dell'essere umano che secondo me sta avvenendo oggi e l'ho ambientato tra vent'anni. Oggi siamo sempre più distanti tra di noi, no? C'è sempre meno consapevolezza delle proprie emozioni. e probabilmente la tecnologia ci sta portando verso un progetto di robotizzazione in qualche modo. E quindi volevo un po' proiettare queste cose nel futuro e raccontare quelli che possono essere i pericoli e magari la salvezza da queste cose. E tu in prima persona... No, perché la tematica è molto seria e molto importante che un ragazzo giovane come te quanti anni hai, Matteo? 28. Allora, però, insomma, la generazione proprio che usa la tecnologia... Però sai, io sono in quella generazione di mezzo che è cresciuta senza i social e poi al liceo si è approcciata ai social. Sono del 95, quindi sono in quella generazione di mezzo. Poi tutte quelle dopo di me faranno le medie e il liceo sempre con i social. Quindi io ho, insomma, ho riflettuto su quello che è stato il processo di cambiamento delle nuove generazioni. Oggi si ha molta più difficoltà a socializzare e a prendersi il rischio di parlare con una persona dal vivo. Perché ci si isola, no? Sì. Per quello che uno tende proprio a isolarsi. Ma anche perché ci si protegge dietro lo schermo. Perché di persona si assume il rischio magari di non piacere, di sentirsi giudicati, di dire qualcosa fuori posto. E invece attraverso uno schermo uno può pensare, può ragionare, può cancellare. E' diverso, no? Diventa uno schermo nel vero senso della parola. Mentre ovviamente, parlando come stiamo facendo noi adesso, c'è un confronto diretto tra chi sono io e chi... Diretto e indiretta. Esatto, indiretta. Allora, da leggere secondo me, da leggere. Matteo Paurillo 2045 è uscito adesso? E' uscito il segno? Sì, è il 16 aprile. Ah, non è ancora uscito? Sì. 16 aprile. I protagonisti sono due ragazzi e una ragazza. Ed è una storia realistica, non è un romanzo di fantascienza. Semplicemente ambientato nel 2045 e racconta un po' il mondo come l'ho immaginato io tra vent'anni. Allora, lo troveremo in tutte le librerie dal 16 di aprile. Matteo, adesso parliamo però mare fuori, questo grandissimo successo. Raccontami come sei entrato, come sei arrivato, perché poi tu hai scritto pure canzoni, musica. Raccontami come è andata esattamente. Anche come è arrivata la famosa, quella che poi è diventata la sigla, no? Sì. Come l'hai pensata, come l'hai scritta? So che l'hai mandata però attraverso un whatsapp. Sì, sì, sì. Ne parlamo l'altra volta quando venimo. E niente, stavamo lavorando a mare fuori alla prima stagione. Durante la pausa estiva, lavorando sul personaggio, ho scritto questa canzone. Quindi poi l'ho fatta sentire ai ragazzi, a loro è piaciuta. Fin quando poi il regista mi ha detto perché non la facciamo diventare la sigla? E da lì poi è rimasta quella. Senti, è il grande successo di questa serie? Come te lo spieghi tu? Davvero così amati tra i giovani, un grande successo del pubblico? Questa è una domanda che ci siamo fatti spesso. Probabilmente è che noi abbiamo pensato solo a fare un buon lavoro. Non abbiamo pensato, insomma, al successo della serie che poi è arrivato dopo. E si è creato un legame tra di noi molto forte. E quindi forse questo legame poi è arrivato anche al pubblico. Abbiamo raccontato comunque storie vere di ragazzi, ma anche la generazione prima perché poi ci sono tutti gli adulti. Quindi probabilmente tutte le fasce d'età in qualche modo si sono riviste in alcuni personaggi e hanno empatizzato con la storia. Non lo so, in realtà ancora un po' è spiegabile per me. È spiegabile però, insomma, il successo c'è e come. Siete tutti davvero molto bravi. La serie è girata bene, scritta bene. Allora, volevo musica. Parliamo di musica e so che qui c'è un ragazzo che io conosco molto bene perché l'ho visto nascere ed è vero. Vuoi chiamare tu? Sì. Dai. Allora qui è domenica in LTA. LTA! 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 Tutto a posto! Tutto bene, tutto bene. Mamma mia, sei ancora più alto. No, sono le scarpe. Sono le scarpe, Luca. Ciao, ciao a tutti. Allora, tu devi sapere che Luca veramente l'ho visto nascere. È cresciuto, eh? Quando la sua mamma è andata a partorire, io stavo con Carmela in ospedale. Papà era, non so, in Australia, da qualche parte in giro a lavorare e io ero lì, per cui sono passati tanti anni. E ti devo dire che quando ti vedo mi emoziono perché ormai sarà l'età. Però veramente sono passati tanti anni. Anche io, anche io. Raccontatemi tutto. Allora voi com'è l'incontro? Cosa fate? Perché adesso so che lavorate insieme. C'è questo nuovo progetto. Come nasce? Siete amici? Ci siamo conosciuti a Sanremo del 2022. Esattamente. Lui era in gara, ci siamo conosciuti in aeroporto. Ah, in aeroporto. Sì, in aeroporto. Stiamo andando tutte e due in direzione Sanremo. Sì, subito è nato un bel legame. Poi sono andato a salutarlo nei camerini. Io ho fatto in bocca al lupo, ho fatto il tifo per lui. E poi, niente, ci siamo sempre tenuti in contatto. Poi qualche volta ci siamo visti a Napoli in studio che poi alla fine in realtà abbiamo più mangiato la pizza che ho fatto musica. Esatto. Poi quando stavo lavorando a questo progetto musicale mi faceva piacere averlo e abbiamo lavorato bene insieme. Allora, questo è un omaggio per te. Un omaggio, insomma un filmato dedicato a Luca. Vediamo. Ah, grazie. Vediamolo. Diciottesimo cantante in gara, LDA. LDA è un ragazzo, si chiama Luca, 19 anni, che ha il sogno di fare il cantante nella vita. Io sono uno che immagina tanto, sono uno che sogna tanto. Mi ha sempre portato bene sognare. Sognate in grande che è gratis, perché tu più sogni in grande più ti poni obiettivi alti. Questo per me vale in tutto, no? Vale nella musica, vale nell'amore, vale nell'amicizia. Canta LDA con Alex Britti. Spero più che posso, che non sia soltanto sesso. Questa volta lo pretendo, perché oggi sono io. Oggi sono io, oggi sono io. Bello, eh? Che bello, mamma mia. Bellissimo. È bello, Alex. Sei raggiante quando hai visto il filmato. Va bene. Vabbè, oltre a lui ha una persona veramente squisita, un veramente uomo. Mi ha trattato come un suo secondo figlio. Sono stato tanto bene. Poi ho cantato una canzone... Bellissima. Oggi sono io. Sta andando bene, eh, Luca. Sono contenta per tutti e due. Torniamo tra 60 secondi. Nel frattempo voi al centro, perché loro adesso cantano assieme. Allora adesso dall'ultimo nuovo lavoro disco di Matteo Paolillo Edo, ultimo atto, uscito il 5 di aprile, ci faranno sentire Nune Kos. Nune Kos. Nune Kos. Però oggi è Kos. Oggi è Kos. Oggi è Kos. Oggi è Kos. LDA e Matteo Paolillo! No! Ma non è cosa Ci ostiniamo a respirare questo veleno Adesso non ti voglio bere più Era solo un miele amaro ma, io ci credevo No, non è cosa Ora che vorrei tornare indietro e sistemare tutto Fermare la pioggia per restare asciutto, mi brucio Ma non è cosa, se corriamo forte, ci facciamo male E poi c'è che non dà una forte, alzi la voce Mi punti alla testa e te vi auguro Senza farti male, ma a volte basta solo una parola Per non lasciare le cose a metà Mi guardi perché vuoi bruciare ancora Ma non è cosa Siamo rose appassite per rifiorire, serve la luce Crepa sopra la pelle, una cicatrice che non si chiude manco Tu che fai da randella, ma l'ho pazza E' cosa bella, gamma passata, te la scurda Ma non è cosa, se corriamo forte, ci facciamo male E poi c'è che non dà una forte, alzi la voce Mi punti alla testa e te vi auguro Senza farti male, ma a volte basta solo una parola Per non lasciare le cose a metà Mi guardi perché vuoi bruciare ancora Ma non è cosa Non posso credere che questa fine è arrivata davvero L'ultima scena che senza vedere conosciamo già E tutte le volte che volevamo ripartire da zero Solo noi due però Senza farci male Ma a volte basta solo una parola Per non lasciare le cose a metà Mi guardi perché vuoi bruciare ancora Ma non è cosa Grazie mille Matteo LD, grazie Luca Grazie, grazie mille Grazie, grazie A presto spero Assolutamente Grazie a te Matteo Posso dire l'ultima cosa? Certo, puoi dire quello che vuoi Occhio all'estate, occhio a quest'estate Perché? Che succede amore? Non voglio aggiungere altro Occhio a quest'estate Occhio a quest'estate Amici, ce lascia così Occhio a quest'estate Ci sarà qualcosa di bellissimo Speriamo Speriamo Occhio a quest'estate